Decimo congresso di radicali italiani a Chianciano Terme, siamo con Andrea Spinetti dei radicali di Genova, con Andrea parleremo sicuramente del congresso ma parliamo innanzitutto di una questione che lo vede protagonista ancora prima del suo incontro con i radicali. Andrea è una voce nota a Radio Radicale, lo abbiamo già sentito altre volte, Andrea è protagonista, suo malgrado, della vicenda del cosiddetto sangue infetto, rispetto a quando ci siamo sentiti l'ultima volta Andrea ci sono da registrare delle novità, alcune peraltro non buone assolutamente, vogliamo un po' fare il punto di questa storia? Sì, diciamo che le notizie non sono buone nel senso che il famigerato decreto che prevedeva prescrizione dei 5 anni per poter ottenere il risarcimento probabilmente verrà applicato in maniera molto rigida e il rischio è che di queste 7 mila persone solo una piccola parte verranno risarcite e in sostanza ciò che ci comunica il governo che emette questo decreto sulla base di un parere dell'Avvocatura di Stato che è un parere di parte perché nel merito l'unica persona o ente preposto a decidere qual è la prescrizione da applicarci è un tribunale, è un giudice, decide tranquillamente di trasferire a posteriore la risoluzione di questo problema. In realtà la lotta comincia adesso, nel senso che l'uscita di questo decreto chiaramente porrà un problema a mio modo di vedere molto urgente, al di là del fatto umano e esistenziale che si nasconde dietro alle centinaia di migliaia o decine di migliaia, forse un centinaio di migliaia di persone che affrontano oltre che alla malattia anche la condizione estremamente discriminante che queste patologie portano. Non dimentichiamoci che stiamo parlando di patologie come l'epatite C, come l'AIDS che per molto tempo e ancora oggi a un certo livello e a una certa latitudine dell'Italia vengono vissute dalle persone come una vera e propria macchia. E' qui che interviene la scarsa responsabilità di uno Stato, cambia modo di vedere, anche da non attento amministratore, rischia di mettere a repentaglio un bilancio dello Stato nei prossimi anni. Non a caso molti giuristi definiscono questa transazione come la più grande transazione civile tra Stato e cittadino della storia della Repubblica. Andrea, ricordiamo un po' di che cosa stiamo parlando per chi ci ascoltasse, per chi ti ascoltasse per la prima volta. Tu fai parte di un gruppo di 7.000 persone che stanno chiedendo da molto tempo allo Stato un risarcimento per un danno subito relativo alla cattiva sanità italiana. Una vicenda nata ed esplosa negli anni Ottanta in particolare. Diciamo che i contagi sono cominciati ad avvenire intorno ai metà anni Ottanta e derivano da un commercio illecito di sangue. Negli anni Ottanta c'è stato un commercio illecito di sangue? Per reperito nei paesi del Terzo Mondo, chiaramente non testato, esplicativo è l'esempio di ciò che è accaduto in America. In America ci sono dei carteggi del processo famoso Bayer-Gullone, cioè Gullone era l'avvocato che ha difeso gli emofilici nei confronti di Bayer, Baxter, Aventis e altre due o tre aziende che si dividono al mercato del sangue. E dai carteggi è venuto fuori che addirittura nelle prigioni dell'Arkansas veniva reperito sangue presso i carcerati senza essere sottoposti ai test, senza che fossero utilizzate le minime condizioni necessarie igienico-sanitarie per poter fare un tipo della serie proprio i carcerati che si mettevano in fila e veniva utilizzata la stessa siringa per documenti di questi carteggi che sono stati fatti sparire e pare che siano stati per 3-4 anni chiusi in un cassetto della Casa Bianca. Parliamo di presidenza Clinton. E' chiaro che ciò che è accaduto in America, ma proprio per la dimensione multinazionale di queste aziende, ha fatto sì che poi l'episodio scoprasse nei vari paesi. In Italia assume delle dimensioni gigantesche rispetto a quella che è la realtà degli altri paesi. Per esempio noi portiamo la Francia, che è quella che ha risolto in maniera più elegante questo tipo di problema, ma parliamo comunque di un'infezione di 2.000 persone. In Italia ciò che è accaduto e che probabilmente sta accadendo ancora oggi, perché che se ne dica, il sangue oggi in Italia non è sicuro, ma per un semplice motivo. Che la legge che metteva in sicurezza il sangue, datata 2005 e che era emanazione di una normativa fatta a livello comunitario nel 2002, in realtà non ha mai avuto i decreti attuativi per poter essere applicata nel sistema di reperibilità e lavorazione del sangue o plasmemoderivati. E quindi noi abbiamo ancora oggi un sistema che consegna in regime di monopolio ad un'unica azienda, la Chedrion, in virtù di una legge che è datata a 1990, cioè antecedente allo scopio dello scandalo Pogliolini. A confermare queste tesi, che comunque in Italia il sangue non si è sicuro, non più tardi di 20 giorni fa, tre talassemici presso una struttura sanitaria di Torino hanno contratto l'epatite C. E qui veniamo al noccio della vicenda, il sangue infetto appunto è infetto quindi… Ecco io vorrei far capire che probabilmente c'è quella che noi definiamo una pagina vergognosa, una strage dimenticata, in realtà è una strage in divenire, magari con picchi più alti e meno alti, a seconda chiaramente del… E quindi insomma la fotografia di questa situazione è una situazione inquietante. E il fatto stesso che il Ministero non voglia porre fine lo dimostra dal fatto che sa benissimo che probabilmente il sistema produce ancora delle infezioni, quindi non potrà chiudere questa partita. Tengo ancora a precisare una cosa, le 7 mila persone sono quelle che sono riuscite a entrare in questa transazione, cioè quelle che al 31-12-2007 avevano le cause in tribunale in piedi contro il Ministero della Salute per il risarcimento. Chi teoricamente in virtù di quella legge può però, con il rinnovo chiaramente di questa legge, perché la legge del 2007 è la finanziaria che introduce l'accantonamento per poi portare a transazione questi soggetti, non prevede una fine, ma prevede solamente un sistema di accantonamento che vada a risolvere questo tipo di problema. Quindi in realtà è probabile che questa voce per parecchio tempo dirmi una voce di capitolo di spesa fissa per lo Stato. Ora il nostro obiettivo, il mio obiettivo è quello di riuscire finalmente, mi auguro di poterlo produrre velocemente, un documento di valutazione di quello che sarà l'impatto economico che il bilancio dello Stato potrebbe avere affidando ai tribunali la risoluzione delle controversie. È un documento al quale ha lavorato un ex giudice e giurista, quindi attendibilissimo e confortato dall'esperienza sul campo e la mia speranza inserita nel contesto radicale è riuscire a trasmettere quelli che sono i concetti tanto amati dai radicali che si possono tranquillamente riferire a questo tipo di situazioni. Andrea, nel chiamiamo argomento, o meglio, spostiamoci, ma nemmeno di troppo, al congresso in corso qui a Chianciano Terme. Il tuo primo congresso l'hai scritto? L'hai scritto. Che impressioni hai con il cartellino giallo al collo? Beh, intanto penso che sia un... io non ho una grandissima storia di conoscenza dei congressi, però da quella che è la mia sensazione è un congresso molto sentito, che viene subito dopo una serie di situazioni e vicende che al di là del fatto che Rita Bernardini ieri abbia spiegato esattamente per filo e per segno quello che è successo e che noi tutti sappiamo, rimane sempre comunque il grosso problema di capire che cosa si andrà a fare da domani in giro e soprattutto che tipo di intenzione abbiamo noi nei confronti delle futuribili alleanze che ci permetteranno di avere l'attività parlamentare, perché qua il problema non è tanto di dire vado col Partito Democratico piuttosto che dall'altra parte. Cioè qua è un problema di tematiche ormai dichiaratamente di interesse comune e sto parlando del testamento biologico, sto parlando dell'amnistia per la Repubblica, sto parlando della costituzione di una forma alternativa di famiglia che dia spazio anche a chi tradizionalmente ha la sua sfera affettiva organizzata in maniera diversa, quindi dalla legalizzazione della cannabis terapeutica, insomma tutte tematiche che pare che né una parte né nell'altra abbiano intenzione di affrontare e qua ritorniamo di sempre di fronte a un grossissimo problema di questo sistema partitocratico che in questo momento vuole avere tutti interlocutori meno che noi radicali, quello è ovvio. Andrea noi ti ringraziamo, continueremo chiaramente a seguire la tua vicenda e le iniziative che adesso con questo cartellino al collo vorrai portare avanti, grazie veramente Andrea. Grazie a te Andrea, grazie agli ascoltatori di Radio Radicale. Grazie agli ascoltatori di Radio Radicale.